ormai sono arrivato qua e lo faccio comunque ecco qua dov'è questo famoso passaggio ora queste, ora va incredibile acqua questa roccia, bam, sopra la strada ok partenza, destinazione Passo del Maloia passando dalla Val Mustaire, ci vediamo là, vamos! eccoci qua ragazzi, sono a Tubre, 1230 metri sul livello del mare temperatura freschina, ci sono 18 gradi sono vicinissimo al confine con la Svizzera, sono circa 5 km questa dietro di me è una chiesa, pensate che è molto particolare di cui non si sa nemmeno l'origine, la prima data conosciuta è il 1230 pensate un signore qui del paese durante una crociata in Egitto ne trasferì la proprietà all'ordine dei cavalieri di Malta parliamo del 1218 e comunque Tubre, questa valle è veramente antica perché durante i lavori di ricostruzione della strada del paese hanno trovato pensato una spilla dell'età del bronzo cioè 1700-1800 anni prima di Cristo quindi veramente antichissima ma adesso saliamo in moto e andiamo verso la Svizzera sempre attenzione ai limiti perché le multe sono salatissime ci affidiamo alla Triumph Tiger Rally Pro, vamos! ecco stiamo attraversando questo paesino e queste case che vediamo in mezzo sono chiaramente le più antiche che erano proprio sulle vie dei commerci ho fatto due ore e mezza per arrivare qui e sono riposatissimo l'impostazione di guida di questa moto proprio la postura in cui ti metti seduto è perfetta almeno per la mia altezza, sono alto 1,80m è veramente comodissima e poi la protezione all'aria è ottima con questo copolino anziché adesso devo un po' abbassare perché le velocità sono meno sostenute quindi è meglio un po' abbassare e non avere tutta questa protezione aerodinamica che comunque è ottima in autostrada perché posso alzare la visiera del casco e non mi dà fastidio quindi perfetta ecco qui su qua il confine questo è quello italiano passato allora la cosa migliore è impostare il cruise control così uno non sta a pensare alla velocità in questi borghi ed è sicuro di rispettarli i limiti la Val Mustere è sempre uno spettacolo peccato per il cielo un po' coperto ma è sempre molto scenografica ecco se adesso girassi qua sulla sinistra arrivo al passo dello Stelvio queste case sono stupende Stelvio è un Braille Pass Santa Maria questo qua si chiama questo paesino comunque non manca tanto un'ora e quindici al Maloio eccoci qua al passo del forno del forno 2149 metri e questa è la discesa su questa valle molto molto selvaggia eccezionale poi c'è questo fiume che passa in mezzo molto libero nel suo letto quindi con tutta la ghiaia intorno così è libero di espandersi in casa di piene come dovrebbe essere lasciati tutti i fiumi acqua questa roccia bam sopra la strada addirittura quel sentiero era vietato alle bici cioè è una cosa incredibile ecco qua a sinistra si va a Livigno con il tunnel Munt Laschera a pagamento ovviamente attraversi quel tunnel e sbuchi nella diga che poi ti porta a Livigno e da questo punto in poi praticamente per me è strada sconosciuta non l'ho mai fatto prima allora qua l'hanno proprio intagliata la strada eccoci qua qua se girassi a destra andrei al passo dell'Albula eccezionale ma continuiamo continuiamo siamo a 30 km ecco io girato proprio qua e vai su all'Albula qui siamo a San Moritz è il lago di San Moritz qua sulla mia sinistra famosissima località sciistica ovviamente e qua dietro queste montagne c'è il bellissimo passo del Giulia anche quello l'ho già fatto stupendo o Giulier Pass o passo del Giulia adesso non mi ricordo mi chiami Giulier Pass non sbagli e qua si apre questo panorama con questi laghi che riflettono le montagne eccezionale eccezionale ma qua il paesaggio è fantastico c'è questa palude ai piedi del paese il nome richiama il post è proprio una pianura è il passo del Maloia qua che ci fa perdere subito dislivello e invece da questa versante qui da dove arrivo io praticamente da quello che ho visto sulla mappa non c'è nessuna difficoltà insomma non ci si inerpica a nessuna parte perché proprio siamo come in un alto piano continuiamo a costeggiare questo lago qua che si chiama lago di Sils non ci fermiamo qua nei bar che ti spennano sicuramente ti spennano in posti del genere figurati qua guarda quando si va verso l'Italia come arriva il cielo azzurro come cambia impostiamo il cruise control a 80 km orari così non rischiamo di beccare multe che spettacolo però ragazzi come si fa a non venire in Svizzera per paura delle multe andate piano guardatevi il paesaggio siamo a Maloia qui venne morì anzi poi il pittore Segantini nato d'Arco in Trentino famoso per aver dipinto moltissimi paesaggi alpini morì qui ed è sepolto qui molto belli i suoi quadri bella questa casa tutto in legno asteria vecchia probabilmente era un vecchio albergo dovrà essere proprio in cima al passo del Maloia allora c'è anche il cartone del Grand Tour questo è un bellissimo giro da fare in Svizzera il Grand Tour ok iniziamo il passo da qualche parte avevo letto che da farlo in su era per il divertimento in giù per il panorama quindi per adesso mi prenderò il panorama un'altra volta lo faremo per il divertimento a parte che qua se non vieni presto secondo me divertimento ne è poco con tutti i mezzi che salgono vediamo com'è ci facciamo queste belle curvone poi giù in fondo vi racconto un minimo di storia del passo penso che più che storia c'è un particolare geografico molto curioso beh dal punto di vista tecnico è veramente incredibile come hanno costruito questi tornanti a sbalzo mi ricordo molto il passo della Stelvia questo rimane poi aperto tutto l'anno da quanto è importante quando leggevo le storie della gente che partiva a Milano per andare all'Elefante in Treffa non c'era chi si faceva questo passo qua per andare sopra nella valle dell'Inn poi Innsbruck e poi da lì per andare verso direzione Monaco sicuramente più avventurosa della strada che devo fare io che alla fine quando sono andato all'Elefante sono andato lungo il Brennero e no ora questi una roba incredibile invadi l'altra corsia per fare il tornante siamo già in valle quindi abbastanza brava in realtà questo bel curvone è un po' come avete visto il passo è famoso ma abbastanza breve perché la rampa in realtà divide la Val Bregaglia con il paese di Maloia su in cima al passo è un dislivello di 356 metri qual è la cosa interessante a livello geografico? che il passo del Maloia è uno spartiacque e cioè separa due bacini idrografici diversi cosa vuol dire in parole semplici? vuol dire che una goccia d'acqua che cade da questa parte cioè nella Val Bregaglia va a finire nel madre adriatico nel bacino del mare adriatico una goccia d'acqua invece che finisce nell'engadina si collega tramite chiaramente canali sotterranei al fiume In che poi va a finire sul Mar Nero quindi quella goccia d'acqua può cadere un metro a destra un metro a sinistra e finisce proprio in due bacini completamente diversi qual era comunque il senso di questo passo perché transitare qui? perché chiaramente collega il lago di Como con l'engadina con la Svizzera e poi con il Giulier Pass il suo utilizzo da parte dei Romani è ritrovato nei documenti già al secondo secolo dopo Cristo ma sicuramente a origini ancora più antiche naturalmente in cima c'era un ospizio come in tutti i passi che si rispetta che serviva per rifocillare i viandanti dalle tempeste di neve perché come vi ho detto anche oggi il passo è aperto tutto l'anno mentre la strada che abbiamo percorso è stata costruita tra il 1827 e il 1828 quindi quasi due secoli fa ok ora sono a un'oretta dal passo dello Spluga la via dell'oro dei Romani come mai? andiamo a vedere sono a un'ora e venti è un passo che da molto tempo che voglio fare ma essendo abbastanza lontano dove vivo io l'ho sempre evitato ora siamo vicini andiamo a farlo vamos ok andiamo a destinazione Spluga & Pass comunque appena si entra vicino a Milano nell'orbita della Lombardia inizia il traffico per essere un passo alpino bello trafficato per i miei gusti in senso particolare la strada però non è quella tipologia che piace a me dei passi selvaggi cioè qua vicino c'è il passo del Giulier il Giulier Pass in un caso non lo chiamo più passo del Giulio il passo dell'Albula che sono zero traffico e molto più selvaggi qua sotto però il paesaggio c'è queste montagne belle imponenti su questa valle ecco qua dov'è questo famoso passaggio l'ho visto mille volte e qua siamo di nuovo alla Dogana e torniamo in Italy ci fanno uscire con i nostri soldi anzi no i soldi li abbiamo già portati in Svizzera torniamo in Italia allora qua giù se non sbaglio ci sono le cascate dell'acquafraggia eccole qua spettacolari che belle molto spettacolari ma particolarissime molto molto scenografiche spettacolari da qualche parte ho letto che le aveva menzionate anche Leonardo da Vinci da quanto erano famose anche prima nell'antichità poi spesso dei posti diventano famosi perché sono facilmente accessibili nel senso sono belle cascate però tipo ne ho viste un paio di altre qua sui versanti della montagna tipo laggiù in mezzo che magari sono raggiungibili con un'ora di sentiero e non le conosce nessuno oppure meno persone ci vanno ok passo di Spluga addirittura si chiama ma che dovrei riuscire a farlo prima di prendere un bello sguazzo speriamo mamma mia qua è veramente brutta beh a questo punto è talmente drammatico il cielo che sono curiosi di arrivare più avanti per vedere com'è che stiamo proprio andando in quella direzione esattamente nella bocca del drago e il cielo ha cambiato proprio colore lì è notte si capisce anche perché le persone prima non scalavano le montagne che le ritenevano un'attività completamente inutile perché comunque sono posti irti di pericoli santuario di gallivaggio qua sono venuti giù dei bombe d'acqua devastanti non so se io starai tanto tranquillo a vivere sotto queste montagne circondate da pezzi di roccia che si staccano non trovo luoghi di confine guarda qua trattoria alloggio saranno proprio posti per i viandanti che passavano qua per raggiungere la Svizzera bello mi sta già piacendo molto di più questa strada qui rispetto a quella comunque come avvicinamento del passo del Maloia perché è più rurale più vera queste case proprio che trassudano i viaggiatori che sono passati di qua però queste montagne qua sono veramente friabili guarda quanti detriti ha la base anche intorno alla strada con tutti i massi staccati da questa montagna mamma mia guarda questo massi in mezzo al paese ok da quello che ho visto dovrebbero essere sguazzi passeggeri quindi non dovrebbero durare molto nel senso anche se li prendo amen voglio solo sincerarmi che non fosse proprio un fronte compatto che piovesse per tipo tre ore in quel caso rivalutavo ma se dura mezz'ora 40 minuti posso sempre fermarmi aspettare che spiova andiamo ad affrontare gli dei delle Alpi ecco comincia ad arrivare la pioggia e allora meglio che metta la GoPro al riparo ok affrontiamo lo spluga con la pioggia tanto ormai sono arrivato qua e lo faccio comunque ok ragazzi qua continua a piovere e quindi credo che torno a casa sul lago di Garda non passando da Milano ma passando dalla Val Muster cioè il percorso che ho fatto all'andata è un pochino più lunga però non ho voglia di ripartare dentro la città metropolitana in Milano per pericà quindi scendo da qua vediamo come va speriamo che smette un po' perché non è acquazzone ma comunque è fastidioso oh poi qua davanti a me c'è il confine con la Svizzera quindi torniamo in Svizzera un'altra volta un'altra volta eccomi qua tornato in Italia ho appena passato il confine sono a Glorenza giornata non proprio come me l'aspettavo innanzitutto il mio obiettivo oggi era il passo del Maloia e non è stato come immaginavo fosse cioè non so forse mi sono documentato poco perché volevo una sorpresa però era molto più civilizzato di come piacciono i passi alpini quindi non è stato il massimo bella la strada per andarci Lengadina i due laghi quelli sono molto particolari il passo in sé schippabile quello che mi è piaciuto tanto invece è lo Splugen Pass quello è veramente bello ci sono proprio quei punti quelle strettoie selvagze un po' civilizzato perché chiaramente è un passo conosciuto però quando si arriva su c'è quel odore di alpi particolare mi è dispiaciuto non averlo potuto documentare troppo perché chiaramente pioveva volevo raccontarvi anche un po' della storia il passo dello Spluga però mentre lo attraversavo pensavo che ho un conto in sospeso con lui quindi ci tornerò sicuramente e lo esplorerò meglio e dedicherò solo una giornata a quel passo perché secondo me vale la pena per quanto riguarda invece questa tigrona qua dietro di me oggi mi ha salvato perché tra tutto starò 12 ore in sella e sto benissimo non sono stanco anche mentre ero parecchio concentrato sui passi in discesa mentre pioveva comunque la protezione dalla pioggia era ottima come quella aerodinamica quindi sono riposato nonostante tutte queste ore in sella e sicuramente lo devo la moto se fosse stato col Transalp sarei stato leggermente più stanco effettivamente bene la traccia GPX come sempre la trovate in descrizione come in tutti i video come sapete ormai cos'altro lo devo dirvi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se da quelle parti della zona di Milano oltre il passo e lo sprua ci sono passi simili così selvaggi insomma come piacciono a me scrivetemelo nei commenti e noi ragazzi ci vediamo come sempre alla prossima ciao ciao